Un'ex dottoressa della mafia medica svuota il sacco. Ecco per voi, cari telespettatrici e cari telespettatori del Muro del Pianto, alcune citazioni originali di Ghislaine Longto. Cos'è di per sé il medico? Il medico è un essere umano, un bravo uomo, e lei mi dirà, ho un medico molto bravo. Sì, sarà anche una brava persona e lei gli dà fiducia e questo è bene. Ma non si dimentichi che questo è solo il lato umano. Il ruolo in cui si trova è tutt'altro. Il suo medico ha studiato medicina e questo è stato completamente finanziato per interessi economici da parte del grande capitale. La dottoressa Ghislaine Longto dice ancora Quello che il suo medico ha imparato gli è stato dettato da persone che perseguono questi interessi finanziari. Questo è successo senza che lui come medico lo sapesse. Tutta la documentazione scientifica, rispettivamente i giornali scientifici, ovvero il proseguimento della formazione medica, serve al grande affare e non alle persone malate ai pazienti. Ghislaine Longto prosegue Deve capire che poiché il problema è che non sappiamo più chi siamo e che la forza per guarire è già dentro di noi, allora cediamo il nostro potere ad estranei, al medico e alla medicina. Cari telespettatrici e cari telespettatori, avere informazioni da diversi fonti aiuta a formare la propria opinione, quindi aiutateci a diffondere queste notizie e consigliate Clagemauer TV anche ad altri. Arrivederci e alla prossima!